Provvedimenti inutili, la cocheria è troppo vicina alla città. Sono senza mezzi termini le parole di Alessandro Marescotti, leader di PeaceLink sulla questione ILVA. Anche l'adozione di migliori tecnologie disponibili non è in grado di assicurare nel raggio di 1700 metri da una cocheria un valore di concentrazione di benzo apirene inferiore a un nanogrammo a metro cubo. Al centro di quel cerchio del diametro di 3400 metri ci sono il quartiere Tamburi e una parte della città di Taranto. Parole dure, spietate, dette con i dati alla mano. Le ricerche, spiega infatti l'ambientalista, dimostrano l'incompatibilità della cocheria con il quartiere Tamburi. Una cocheria con dieci anni di vita, in media, non è in grado di ridurre l'inquinamento da benzo apirene in un raggio che va dai 1200 ai 1700 metri. La cocheria ILVA è a 300 metri dal quartiere Tamburi di Taranto e fino a 1700 metri non vi può essere aria salubre. Nessuna speranza, insomma, secondo l'ambientalista di risolvere il problema il prossimo 26 luglio a Roma. E continua, nessun tavolo tecnico, politico, sindacale, potrà schivare e tantomeno risolvere né a Roma né a Bari né a Taranto il problema. Il piano di risanamento della qualità dell'aria proposto dalla regione è assolutamente inadeguato e inefficace, dice poi. E infine conclude, se fosse stato possibile risolvere il problema dell'inquinamento lo avrebbero fatto a Genova. Lì la magistratura invece ha dovuto sequestrare e fermare la cocheria. E le problematiche sanitarie di inquinamento non dovrebbero differire da nord e sud, conclude Marescotti. Sul piano di risanamento incalza anche Lega Ambiente. La legge regionale non sminuisca adesso la portata della riapertura dell'AIA, l'unico strumento che può imporre per via amministrativa interventi di drastica riduzione dell'inquinamento prodotto dagli ambienti industriali. Lega Ambiente ha già inoltrato al Ministero dell'Ambiente i 26 punti ritenuti rinunciabili, tra cui un esercizio della cocheria in maniera condizionata e sotto controllo, la copertura dei parchi minerali, il controllo per dispersione della diossina, la riduzione fenomeno slopping della ceieria, il monitoraggio e il campionamento in continuo di macro e micro inquinanti.